A tutti i 3629 dipendenti dell'Ulss 7 è stato fatto almeno un tampone, anzi in tutto ne sono stati fatti oltre 10.000, il che significa che di media ogni dipendente ne ha fatti quasi 3. I positivi rilevati sono stati 208, che corrispondono al 5,7% di questi, 27 sono medici, 111 infermieri e il bilancio dei controlli effettuati finora dall'Ulss 7, che ha tamponato anche quasi tutti 231 medici di base e 40 pediatri su 44, test rapidi e tamponi anche al 99,8% dei circa 7.000 tra operatori ospiti delle case di riposo. Quanto agli ospedali, dal lunedì ci sarà una graduale, progressiva e sicura riapertura a visite e operazioni rimaste congelate. Vorremmo un'intelligente e ragionata ripresa con priorità per chi ha veramente bisogno di salute, quindi il primo criterio è il criterio clinico. I varchi d'ingresso agli ospedali saranno pochi e ben controllati e in ospedale ci si andrà da soli. In ospedale si va da soli, uno, una persona va in ospedale per fare quello che deve fare lui, solo le categorie fragili, pazienti che devono per forza essere accompagnati, che non hanno autonomia, possono avere l'accompagnatore. Quanto al nuovo focolaio di Covid-19 rilevato all'ospedale di Asiago, tra alcuni ricoverati, è la dimostrazione che serve prudenza. La struttura era stata chiusa per sanificarla e poi riaperta con soli 18 posti, tutti sullo stesso piano. Ora questi nuovi casi apparentemente senza spiegazione. Alla riapertura abbiamo avuto in ripresa due piccoli focolai. Piccoli focolai non vuol dire nulla di straordinario, ma abbiamo trovato delle positività che non riusciamo a spiegare sui pazienti ricoverati. Anche Asiago riaprirà gradualmente dal 4 maggio, con tutte le procedure e i controlli previsti dal protocollo regionale.